Grazie Presidente. L'opportunità di questa indagine conoscitiva è notevole a mio parere perché può consentire nei tempi che ci stanno davanti di affinare la preparazione di questo appuntamento del semestre di presidenza dell'Unione Europea che seppure mutato nelle sue funzioni dalle innovazioni dell'ultima modifica al Trattato dell'Unione Europea resta tuttavia un appuntamento significativo per il Paese che la esercita sia come momento catalizzatore di una possibile attenzione interna e riflessione sulle questioni europee sia anche per gli spunti e gli impulsi che può dare in sede di Unione. Di conseguenza per un Paese come il nostro che sovente discute delle questioni europee in modo anche molto variegato può essere un momento importante. Considerate che l'ultima volta che noi abbiamo esercitato la presidenza è stata nel 2003 e la prossima volta per chi ci sarà sarà nel 2028-29 se poi aumentano gli Stati dell'Unione sarà ancora un po' più in là. Mi propongo in questa presentazione sintetica di affrontare due profili. Il primo degli elementi di organizzazione pratica in maniera che voi abbiate l'idea di come si sta muovendo il convoglio di preparazione del semestre e il secondo l'indicazione di schematica delle priorità strategiche che attualmente a livello di governo abbiamo identificato. Sotto gli aspetti di preparazione e organizzazione tre profili sottolineerei. Il primo riguarda le caratteristiche di calendario direi degli elementi specifici alla fase in cui noi eserciteremo il semestre di presidenza. Inizia nel mese di luglio quindi siamo all'indomani delle elezioni del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo si insedia nella prima settimana di luglio. Verrà designato, oltre ai vari incarichi di presidenza naturalmente all'interno dell'Assemblea parlamentare, il Presidente, i Presidenti e le Commissioni. Verrà anche designato il Presidente della Commissione europea, quindi del cosiddetto esecutivo. E successivamente i commissari sono previste le audizioni e di conseguenza ci sarà un periodo abbastanza lungo che attualmente a bocce ferme si ritiene prenderà fino a tutto il mese di ottobre per l'insediamento completo della nuova Commissione europea e l'entrata in operatività del nuovo Parlamento europeo. Si dovrà anche designare poi entro novembre anche il Presidente del Consiglio europeo, oltre con ogni probabilità al Presidente dell'Eurogruppo, cioè al Consiglio dei Ministri, per così dire, economici dei Paesi della zona dell'Euro. Allora questa fase di rinnovo istituzionale coinciderà naturalmente con un rallentamento, per non dire proprio con una sospensione, dell'attività legislativa parlamentare propriamente detta, così come della presentazione di nuove proposte da parte della Commissione. Sapete che nel sistema dell'Unione è solo la Commissione europea che può fare proposte legislative. Quindi questo elemento di calendario fa sì che il primo periodo del nostro semestre, primo periodo abbondante, sarà sostanzialmente un periodo di forte responsabilità politica per garantire l'operatività e la continuità istituzionale dell'Unione durante una sorta di non proprio vacazio, ma comunque uscita, entrata in funzione delle istituzioni. L'attività legislativa potrà quindi concentrarsi soprattutto negli ultimi due mesi. Questo può essere un elemento di diverso inquadramento del semestre, anche con profili interessanti proprio per questa funzione di continuità istituzionale che saremo chiamati ad assicurare. Il secondo punto di questi tre, del primo aspetto di cui vi dico, riguarda il fatto che a seguito delle modifiche del Trattato, quindi del cosiddetto Trattato di Lisbona, ci saranno una serie di novità a cui si pensa poco, ma che è utile avere a mente e che entreranno in vigore proprio durante il nostro semestre. Anzitutto inizierà quella fase di progressivo cambiamento del calcolo del numero dei voti che spetta a ciascuno Stato membro in sede di Consiglio. È importante perché sono poi gli equilibri e i pesi specifici delle maggioranze che si formano in un organo che decide oramai il più delle volte a maggioranza qualificata. In secondo luogo entrerà in operatività, ed è già stato sperimentato nelle ultime due presidenze, il cosiddetto trio, le tre presidenze che si succedono. Nel caso di specie siamo Lituania, con la Lituania e il Lussemburgo siamo noi che dobbiamo assicurare in questo periodo di 18 mesi lo svolgimento e la programmazione delle attività. E questo si tradurrà nella elaborazione, a cui sono poi chiamati a collaborare attualmente i Parlamenti, a parte che i governi, nella elaborazione del programma per i 18 mesi e del programma poi più specifico del semestre. Nel corso del semestre, infine, sotto il profilo dell'attività parlamentare, ma lo sapete, vi segnalo che sono previste, oltre alle riunioni consuete COSAC, anche l'interparlamentare sulla politica di sicurezza e di difesa e la possibilità, evidentemente, di organizzare l'interparlamentare prevista dall'articolo 13 del trattato cosiddetto del fiscal compact, come ne parliamo molto nel dibattito italiano del fiscal compact, l'interparlamentare che è prevista è un elemento molto importante, oltre alla possibilità, evidentemente, per il Parlamento del Paese che esercita la Presidenza di proporre altre iniziative sul genere, ad esempio, delle assise parlamentare. E, infine, due ultimi punti su questo primo aspetto, profili organizzativi. Voi sapete che è stato costituito un comitato interministeriale di pilotaggio, presieduto dal Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, Ministro dell'Economia, Ministro dei Rapporti col Parlamento, il Vice Presidente del Consiglio e il Ministro degli Affari Europei. A Valle opera un comitato di natura più tecnica, presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. è stata costituita una delegazione, cosiddetta nella terminologia tradizionale, per gli aspetti organizzativi pratici. E noi abbiamo già fatto un primo atto, presentando la settimana scorsa, in Parlamento, la relazione programmatica per il 2014, prevista dalla legge 234, che è un atto molto importante per mettervi al corrente degli elementi in corso. Veniamo ora al secondo aspetto, quello legato alle priorità strategiche. Per schematicità di presentazione vi propongo un trittico di elementi che secondo me sono salienti. Il primo si può declinare su tre punti, legittimità, democrazia e futuro dell'Unione Europea. Noi abbiamo questa prima fase proprio del semestre, proprio per il rinnovo delle istituzioni a seguito delle elezioni parlamentari del Parlamento Europeo, che è proprio molto importante per consentire anche una riflessione profonda sul fondamento democratico dell'Unione, che deriva in particolare dal suffragio universale con cui è eletto il Parlamento Europeo. E questo è un elemento di dibattito che varrebbe la pena di approfondire, di nutrire, perché è quello che poi può aprire la porta a sviluppi successivi, di cui potremmo valutare la concretizzabilità a distanza più ravvicinata. Ad esempio la possibilità di fare dichiarazioni o atti di carattere solenne, in generale si fanno verso la fine del semestre, in maniera da dare una propulsione evolutiva all'Unione, ovvero anche di intraprendere passi ancora più concreti e di prospettiva più ampia verso un progresso nella direzione dell'Unione politica. Elementi che possono essere nutriti durante la fase precedente il semestre, quindi già adesso, ancora più durante il semestre stesso, e poi valutare in che modo solennizzarli nel corso del semestre. Il secondo elemento di questo ideale trittico di presentazione lo declinerei su tre punti, crescita, occupazione e riforme. Lo si è detto già più volte, è stato ripreso anche dai media, noi vediamo il semestre e vediamo anche la nuova legislatura europea che si apre dopo le elezioni come una legislatura della crescita, naturalmente questo è fondamentale dopo il periodo cupo della crisi economica, naturalmente la crescita economica ha un senso nella misura in cui produce posti di lavoro e migliora il benessere della società civile. Ed è per questo che accanto alle azioni per la crescita bisogna affiancare delle riforme, delle riforme strutturali importanti che possano favorire effettivamente il salto di qualità. Abbiamo tutta una serie di atti che guidano questo processo. Per la parte più tipicamente economica e monetaria, il cosiddetto rapporto dei quattro presidenti adottato a livello dell'Unione nel dicembre 2012 dà una vera e propria tabella di marcia, una delle componenti della quale l'Unione bancaria è stata recentemente finalizzata nell'ambito legislativo e dovrà essere messa in opera proprio durante il nostro semestre. Il patto cosiddetto per la crescita e l'occupazione adottato nel giugno 2012 e monitorato semestralmente nella sua realizzazione dal Consiglio europeo stesso contiene tutte quelle misure di carattere industriale, di carattere microeconomico, di mercato e quant'altro che possano determinare una creazione di posti di lavoro e una crescita sostenibile dell'economia europea. Sostenibile da un punto di vista sociale e sostenibile anche da un punto di vista ambientale. Molte delle misure che sono per esempio individuate come ottimali per favorire la crescita in economie mature riguardano anche una svolta verso un'economia più verde, verso un'economia più rispettosa dell'ambiente, verso metodologie di lavoro e più rispettose delle esigenze sociali di un moderno contesto civile. Quindi in questi due atti c'è già moltissimo e questo si affianca alla strategia che conosciamo, cosiddetta dell'Europa 2020, che naturalmente necessita di un costante aggiornamento in quanto concepita in un momento in cui mai più si pensava che sarebbe poi scoppiata la crisi economica globale. Ci sono in questi atti che vi ricordavo tutta una serie anche di fondi di finanziamento importanti per l'industria, importanti per la realizzazione di progetti. È stata conclusa in maniera positiva e proprio ieri a Bruxelles, parlando con la Commissione europea, sostenevo la necessità di passare dalla fase pilota che si è conclusa in maniera positiva a una fase implementativa ulteriore e la sperimentazione dei cosiddetti project bond, che sono delle possibilità di finanziamento ulteriore. Non dimentichiamo nemmeno che con il 2014, che si è aperto adesso e via via che entreremo in operatività, sono fruibili i fondi previsti dal nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Quindi anche questi elementi, crescita, occupazione e riforme, fanno parte proprio di cose molto concrete su cui saremmo chiamati alla prova durante il semestre. Per le riforme noi stiamo lavorando ad un meccanismo, ve ne parlavo l'altro giorno riferendo del Consiglio europeo, ad un meccanismo che possa prevedere incentivi europei a favore delle riforme. Quel meccanismo più vincolistico obbligatorio che passava con il nome di contract arrangement è oramai totalmente superato e siamo entrati in una logica di partenariato che prevede impegni volontari e meccanismi di solidarietà alla cui definizione stiamo ancora lavorando. L'ultimo punto di questo trittico generale lo declinerei sui tre concetti che sono un po' propri della dimensione esterna dell'Unione europea, mediterraneo, vicinato e mondo globalizzato. La geografia economica mondiale è cambiata, l'Europa deve assumere un nuovo tipo di presenza in un'economia mondiale che non la vede più ovvio protagonista, ma al contrario la vede come uno degli elementi declinanti della geografia economica mondiale, l'Europa. Non parliamo dei singoli stati che la compongono. Di conseguenza bisogna rivedere nell'ambito dei sistemi di accordi bilaterali, pensiamo al negoziato per l'accordo transatlantico, ma non solo, al sistema degli accordi multilaterali, pensiamo al dopo accordo di Bali nel quadro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, bisogna ripensare il ruolo dell'Europa nel mondo, soprattutto sotto il profilo economico, ma non solo, la riflessione che si è svolta a dicembre sulla politica di sicurezza e di difesa vuol dare all'Europa anche una dimensione più di carattere politico nella sua presenza nel mondo, ma va ripensata e con essa quella degli stati. In questo quadro, importante nel corso del nostro semestre, il vertice ASEM con i paesi dell'Asia che noi ospiteremo. Vicinato sono i paesi più vicini all'Europa, aree sensibilissime, non sto neanche a dilungarmici, Medio Oriente, Nord Africa, Est Europeo, basta guardare ciò che leggiamo o vediamo nei media, tra ciò che accade in Ucraina, la conferenza sulla Siria, il periodo successivo alle cosiddette primavere arebe. Ed infine è molto importante, ovviamente, per l'Italia, per il semestre di presidenza italiana e per l'Europa stessa, la dimensione mediterranea. Dimensione mediterranea che ingloba anche l'affrontare a fondo, e qui c'è un appuntamento fondamentale al Consiglio europeo di giugno, l'ultimo di presidenza greca, ma quello prodromico alla nostra presidenza, affrontare in maniera globale le questioni legate al tragico, drammatico fenomeno delle migrazioni. Una grande asimmetria tra paesi dove c'è l'impatto immediato di arrivo dei migranti e paesi in cui poi i migranti tendono maggiormente a stabilirsi, questa asimmetria, come tante altre asimmetrie negli oltre 60 anni di storia europea, va affrontata insieme, e l'appuntamento che noi abbiamo stimolato ottenendo una discussione approfondita ai Consigli europei di ottobre e dicembre 2013 è adesso a giugno 2014 e poi durante la nostra presidenza lo porteremo ulteriormente avanti. Concludo ricordando ancora tre punti che secondo me sono molto importanti per l'Italia. Noi eserciteremo la presidenza, come si faceva una volta, o perlomeno quando io ero bambino, si facevano in certe occasioni di importanti dei buoni propositi, dei buoni proponimenti. Ecco, io credo che se noi dobbiamo fare dei buoni proponimenti come sistema paese per esercitare con piena legittimità, forza e influenza il nostro semestre di presidenza dobbiamo tenere presenti ancora una volta tre elementi. Il primo, usare e usare al meglio, presto e bene e nella loro interezza i fondi che l'Unione Europea mette a disposizione del Paese. Non sono solo i fondi preassegnati, come i fondi strutturali e quelli agricoli, sono anche i fondi che bisogna conquistare con gare aperte europee, come quelli della ricerca. E qui concorre molto anche il sistema privato delle imprese e dei centri di ricerca Paese. Il secondo è quello di porre fine a questa spirale di numero eccessivamente elevato di violazioni, di infrazioni alle norme europee. Noi abbiamo fatto, e qui ringrazio molto sinceramente e molto concretamente il Parlamento, dei passi avanti fenomenali nel ridurre le infrazioni da tardivo e mancato recepimento, anche se, come leggiamo anche sui giornali di oggi, ancora direttive in ritardato recepimento esistono. Ma le abbiamo ridotte su 104 infrazioni, circa 25 riguardano ancora i mancati recepimenti. Ma ce n'è una ottantina che riguardano proprio violazioni di norme esistenti. Questo è un macigno che pesa sulla nostra credibilità perché è una forte incoerenza. È come voler essere cittadini corretti e poi violare varie regole, eccetera. Non funziona. Riduce la nostra capacità di influenza, riduce l'affidabilità del Paese e la credibilità delle nostre proposte. E il terzo elemento sono le riforme. È partita in Europa una stagione in cui sulle riforme, come vi ho detto prima, si porta una grande attenzione. Potrebbero essere anche previste delle forme di incentivo. Se noi non ci incamminiamo in questo percorso di riforme, che vuol dire in un tagliando di drastica modernizzazione del Paese, noi rischiamo di perdere un treno europeo, ma di perdere anche un treno, probabilmente con la storia. Grazie. 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 Grazie.